Musica 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 Qui qua con Stefano dell'Atletico San Martino, vittoria importante oggi? Importantissima direi, per il morale della squadra che dopo la sosta invernale siamo rientrati un po' pesantiti, la prima abbiamo sofferto ma oggi questa vittoria ci rilancia la grande. Puntiamo al terzo posto! E adesso fondamentale la prossima partita anche contro Manipè. Molto importante, molto importante, sono un passo avanti a noi, quella molto importante per il proseguimento di un ottimo campionato e ci vogliamo riconfermare anche quest'anno avversari, avversari ostici per tutti. Partite combattute comunque, complimenti ancora, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, è un piacere. Ciao.